a renzano in danza ventesima edizione 2015 promossa da comune di arenzano e artes con il patrocinio di regione liguria e città metropolitana di genova una settimana di stage dal 6 all'11 luglio 2015 danza classica modern contemporanea docenti importanti un gran galà della danza premio danza renzano arte diciassettesima edizione a sara arenda prima ballerina del ballet national dell'opera de bordeaux giovane danzatrice dalle spiccate qualità tecniche che le hanno valso nel corso di quest'anno la nomina prima ballerina dell'opera de bordeaux e che si distingue per versatilità stilistica interpretativa premio danza renzano media show ottava edizione al danzatore e coreografo fabrizio mainini nel corso di questi anni ha saputo portare la cultura della danza in numerosi programmi televisivi di successo esaltando le proprie ed altrui potenzialità artistiche nel contesto mediatico quale esempio per tanti giovani promettenti futuri danzatori excellent dancers grand prix seconda edizione premio a giovani danzatori d'eccellenza assegnato quale riconoscimento ai migliori allievi delle più importanti accademie di danza italiane e internazionali a titolo di incoraggiamento per una futura carriera professionale a gloria malvaso già diplomata della scuola del teatro dell'opera di roma rebecca storani già diplomata accademia nazionale di danza di roma miriana conte federico tosello allievi del russian ballet college di genova premio danza renzano giovani quindicesima edizione talent d'autore concorso coreografico aperto a gruppi di scuole di danza solisti coreografi indipendenti e compagnie emergenti la giuria anna maria prina roberto fascilla jose fontano marco pierin fabrizio mainini patrizia campassi a renzano in danza il ventennale la prestigiosa manifestazione della danza in un'edizione speciale che festeggia i suoi 20 anni di vita si chiude così la ventesima edizione del festival con concorso coreografico e grandi nomi della danza per la finale in gara 11 solisti un duo e otto gruppi valutati su tre parametri giudizio tecnico artistico espressivo e originalità musica idea e costumi la vincitrice per i solisti è sofia schiavi 16 anni con una coreografia in stile modern contemporaneo dal titolo io parlo così secondo classificato il gruppo dance in motion coreografia di simona tovoli con un'interpretazione modern contemporanea dal titolo siate il peso che inclina il piano terza classificata sarà grassi 15 anni che ha danzato le passant in stile moderno contemporaneo scuola danzarte di genova main sponsor dea sostenitori grand hotel di arenzano flor liguria bussetti e mazza il poggio hotel anime core ristorante pizzeria fotografo ufficiale della manifestazione alice longoni i premi della manifestazione statuette in acrilico trasparente realizzati da bussetti e mazza sono contraddistinti da nome e cognome del premiato l'edizione della manifestazione e il tipo di premio assegnato arenzano in danza vent'anni d'amore e di passione per la danza al servizio dei giovani e del loro futuro grazie al comune di renzano e alla regione liguria e ad artes e a chi dal 1996 al 2016 ha sostenuto un sogno diventato una realtà nazionale ed internazionale che ha portato in liguria sotto la direzione artistica di patrizia campassi prestigiosi docenti e grandi artisti internazionali grazie al comune di renzano grazie renzano a questa bella platea e soprattutto grazie alla prossima edizione con renzano in danza ventunesima edizione patrizia campassi grazie a tutti Grazie a tutti.